Dal racconto di chi ha subito per anni violenza domestica alla testimonianza di chi vive il dramma della mancanza di una casa e poi le difficoltà legate alla carenza di lavoro, alle disabilità, alle dipendenze. Nell'ambito delle iniziative previste dal percorso sinodale diocesano, al centro la pace di Benevento si è tenuto un confronto con istituzioni e associazioni di categoria rappresentanti dei settori produttivi per ascoltare le realtà più fragili. Una traiettoria indicata dall'arcivescovo, Felice Accrocca, che con questo incontro rilancia l'urgenza di un cammino comune tra chiesa e istituzioni. L'obiettivo è indicare un metodo, in qualche modo rovesciare anche qui la piramide, in fondo la logica è evangelica però e al tempo stesso stasera anche dare qualche prospettiva o qualche iniziativa, presentare un'iniziativa per uscire da tante situazioni che poi creano fragilità. A tracciare il quadro della realtà cittadina è il direttore della Caritas diocesana Pasquale Zagarese. Sono aumentate negli ultimi tempi, vuoi per la pandemia, anche per altre problematiche strettamente sociali, sono aumentate proprio i poveri, mancanza di lavoro, la possibilità di non avere anche una cassa dove poter vivere, ma soprattutto di che vivere e quindi questi sono i bisogni e stiamo cercando di fare rete anche con il tessuto sociale, con le istituzioni per cercare insieme di dare una risposta possibile. Grazie a tutti.